Napoli favoritissimo a 1,22 in casa della Spali, ma colleghiamoci subito con Napoli con Antonio Petrazzuolo. Sì, sono molto d'accordo con questa quota di Unibet perché è chiaro che il Napoli gioca in traspetta e di solito quando si gioca in traspetta non è mai facile fare risultato, però contando sulla verb dei tre d'attacco, su Mertens che è sempre nel vivo del gioco, chiaramente anche sugli altri giocatori del Napoli che chiaramente ormai si conoscono a memoria, credo che sia giusto puntare sulla vittoria del Napoli e soprattutto tenendo conto anche della forza dell'avversario che sicuramente ha degli elementi interessanti, però è chiaro che il Napoli parte sicuramente favorito. Antonio, il Napoli segna raffica, sarà un'altra partita da over oppure una partita da under? Ormai si potrebbe dire gara da over per il Napoli per tutte le partite perché la squadra costruita molto bene da Maurizio Sarri, chiaramente da Aurelio De Laurenti si sta dimostrando una grande verb tattica e una qualità di gioco sicuramente molto molto interessante e il Napoli riesce a far vedere grandi azioni da gioco, grandi manovre e soprattutto spesso e volentieri concretezza in fase offensiva. Quindi al di là delle considerazioni del caso possiamo dire che anche Spam del Napoli sarà a mio avviso, credo, almeno sulla carta, una gara da over difficile ipotizzare la possibilità che possa finire con poche reti. Quindi ripetiamo, vittoria del Napoli, gara da over e poi chi vibra vedrà.